Aspettate! Buon Natale a tutti! Ma il casino di Natale, la nascita di Cristo, i giochi di famiglia e, francamente, erano ben tesso. Sì, perché io ho sempre desiderato vivere come una famora, come un'universo. Audizioni. Oh, bello e leggibile. Impegno limitato dal 11 al 31 dicembre. Ma un beletto. Ora l'inverno del nostro scontento, io voglio fare il re, d'accordo? Un'esperienza cooperativa. Ma, caro, devi pensare in certe frasi, ma lei è il 68. Via. Vetto alloggio e ispirazione. Non bastava mettere soltanto vite alloggio. Poi, povero io, io lo conoscevo bene. Letta, mia zia, lei. L'ho proprio sentita. Sei compagno di viaggio per penetrare il malinconico d'Avese? Io faccio l'attore già da sette secoli. Oh, mia amata consorta regina. Non sono venuta qui per fare Polonio. È la laida Gertrude che mi entrai. Finisce con un rivolgersi al regista, nonché appunciato a me. Incredibile, un po' aggastice, un po' di fantasia e uno diventa del tutto irriconoscibile. Sei accolto di soldi e è davanti a te la soluzione. Sono pulita, coscienze usa e vengo corredata di te. Si, l'ho vinto il bravino. Molto bene, tesoro. Verranno un sacco di gay new age intrati dalla tua posizione. Dall'annuncio questa produzione si presenta con le stesse prospettive del Titanic. Il fatto è che quando... Sapete, no? Che i dottori dicono che l'esaurimento nel corso può venire tutto ad un tratto, all'improvviso, come un Big Mac. O se no, c'è l'altro genere, quello che viene con l'endetta, che richiede più tempo. Io allora avevo 33 anni e questo mi era neanche 7 mesi. E aveva appena cominciato a fiori fuori il capitolo. E' arrivata? E' arrivata? Io siamo più giocati, ci trovano dei rispetti. Ehi! Ma non mi riconosce? Sono Sandrine quella di prima. Zia, 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 zia. Se vuole l'altro la terza. Grazie. 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 Grazie.